Salve a tutti i gamers, aspetta Andrea, salve a tutti i gamers, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono con Andrea, saluta Andrea! Ciao! Sì, siamo in videochiamata, non siamo su Discord per carità, ma siamo in videochiamata. Oh, sta scarpa non si vuole togliere. Allora, sto... Allora, io faccio la lost. Io faccio la lost, tu! No, la faccio io, lost. Non lo vuole fare su Lost. La faccio io, lost, Andrea. Allora, mi chiamerò... Covid. Non... 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 Non lo vuole fare su Lost. In modo facile, diciamo, per riconoscerti. No, 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 mi chiamerò Covid. Lo sto creando io, ferma. Fermo, lo sto creando io. Fai a chiamare gli altri. Eh, io non ce li ho il loro numero di telefono. Vabbè, intanto giochiamo un po' con i due, poi li chiamiamo. Ok, allora, ragazzi. Eh... Allora, ragazzi, sono in videochiamata con Andrea. Adesso, però, stiamo giocando. Io mi chiamo... Innanzitutto mi chiamo Covid. Mi metto un attimo la skin. Una skin. Ah, dimmi con il concia. Io già sono pronta ad impostarlo. Aspetta. Ok. Tutto grande, ovviamente. Ok. G. E poi... E poi... F S S S X Poi E R Poi basta. Q Q Q Q Q Q di quadro Poi Da poi la Q Quindi è G F S X E R Q No, togli la E, non c'entra niente. Ah, quindi è G F X B F S X R Q Sì, entra, dai. Contrando Ciao Impostore Dai, la mettiamo pubblico qui. Sono impasta. D'impastar. Impostore come si, come si chiamava, come si chiamava un tempo matti. Fato di pasta. Impastar. Fato di pasta. Ciao, c'ho un palloncino in testa. Ciao. Di niente scritti di entrare, tanto c'è il codice. Ma non sto in live. Stai registrando? Sì, sto registrando un video. Oh, ciao Yoshi. Può essere che è Yoshi di Pandex. Oh, aspetta. Mettiti il rosso come hit. Rosso. Sì. Ma già c'è Yoshi rosso, non posso. E chi? Ah no. Vero, vero. Ti ho ragione, ti ho ragione. Vieni. Io c'ho un palloncino in testa. Certo. Dei farti capire la mia serietà. E per miglia. Poi, poi, poi. Ma, oh, aspetta, ma... Ma l'impostor vision serve ad aumentare la possibilità di diventare impostori? No. Dice quando non c'è l'elettricità, quanto vedono gli impostori. Ok. Perfetto. E quanto vedono i cruma? Ciao, Fox Beast. E... Dai, metti pronto. Start. Quale pronto? Non siamo mica su brawl. Start, pronto. Io sono abituata a brawl. Io. Anche io. Io. Shhh. Criume. Sì. Anche io. Porca miseria. Io mi faccio una tasca a caso. Oh. Sta laggando un brawl. Oh no. L'elettrica. Io vado a morire, si sa. Perché vado in elettrica. Ti sacrifico per la patria. No, che ti sacrifici. Ma poi scusa. E vado in elettrica. Oddio, sono in elettrica. Oh dai, perfetto. Non ho avanzato. Dai. E' Yoshi. E' Yoshi. No, un attimo. Metti le emergency meeting più veloce. Non posso mettere le emergency meeting. Qua non me lo posso fare. Ma me lo mettilo, me lo mettilo, vero che dico. Allora. Vedi qui. No, no, ti sto seguendo da partenza. Ah, c'è un Did Boy Report. Dai. Eh sì, è giusto. E' Yoshi. Eh no. Ma sei uscito. Sì, mi hanno ucciso. Eh, Yoshi. Scrivilo. Abbiamo vinto? Chi? Se ne ha dato Yoshi. No, ma abbiamo vinto il primo colpo. Dai. Ora spunta la pubblicità tanto. Ora spunta la pubblicità. Eccola. Eccola qua. La pubblicità. Gioca ancora. Una cosa, posso rientrare con il codice perché la pubblicità non mi si leva. Sì. Dai, me ne sto andando dal gioco e ora rientro, tranquillo. Ok. Che cazzo no. Che cazzo no. Allora, un attimo, che provo a uscire e rientrare da Mongas. Stavo seguendo Ketty il foglio di carta. No, mi scoglie. Sì, stavo seguendo Ketty il foglio di carta. Fa video bellissimi, lascia stare. Oh, Andrea, domani vado a mangiare McDonald's. Sei fortunato, dimmi il codice. No, aspetta che qua c'è ancora sto scendendo qua. Come si chiama? Schermata nera. Sì, è una schermata nera bugata. Non è bugata, si sta prendendo il gioco. Ok, si sta prendendo il gioco. Oh, stava scendendo il telefono. Ecco, sì, c'è il telefono, ti prego. Sì. Che tifoio di carta. Allora. Dice, anzi, te lo dico io stavolta. Voglio chiamarmi Impostor. A caso. A Benor. Allora, il codice è tutto grande. No, aspetta, sto scrivendo il nome. Ok, tutto grande. S. S. La P. P. Giochi. S. 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 X. X. Q. Q. Sto entrando. Prova di entrare. Sì. Tanto ora mi crash. E dai. Aaaaa. Ciao. Ma. Ma. Dai, mi ha crashato. Ciao. Ciao, Impostore. Chiaro l'impastare. L'impasta. Che ho un cornuto. Che ho tutto cornuto. Guarda. Sto benissimo. E il cornuto. Che ti leva la febbre. Anche se non è vero. Ti amazzo. Poi a caso mi metto. Cioè, allora. Metto il cappello della guardia di finanza. E divento la guardia di finanza. Bino, Nino. Ti inseguo perché tu hai rubato. Dai. Non è vero. Ma io sono solo l'impostore. E tu sei impostore alle chili, le persone. Quindi stai zitto e ti prendi. Ma che tu ti chiami impostore, guarda. Ma tanto mi chiamerò finanza. Ma se non entra nessuno allora me ne vado. No, se non entra nessuno. Guarda, io mi nascondo e chiederei il quadratino. Se non entra nessuno. No, no, dai. Eccolo. Il dottor Ovo. Ovo. Il dottor Ovo. Facciamo una cosa. Eh. Mettiamoci tutti a tutto l'uovo. Il tuo è l'uovo. Il testa. L'uovo. No, io rimango dalla finanza. Finanza io sono. Il cornuto. Il cornuto. Io ho pane con il tonno. Vai. Che triste. Che io invece sto ammazzo. Cosa? Guardami come sono vestito. Come sono avvenciato. Come? Oh. Aspetta un attimo. Aspetta. Allora. Ah no. Non si può. Io sto giocando. Eccolo qui. Il mio orsetto. L'orsetto con cui dormo in. Allora. Allora. Se non arriva nessuno. Io me ne... Non arriva nessuno. Non arriva nessuno. Mi metto l'angolino. No. Allettato. 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 A guardare il cielo. La finanza ora ti prende. Vabbè ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga.